E' stata una partita strana per l'atmosfera, ma la mia squadra ha sofferto contro una squadra forte, ha fatto un buon gioco, ma nonostante questo ha avuto le sue occasioni, è sempre stata in partita fino alla fine, subito un gol su un calcio d'angolo. Mi dispiace perché anche se rimaneggiati eravamo un po' ristretti oggi, c'eravamo tanti fuori e siamo riusciti comunque a rimanere in partita e probabilmente ci poteva stare anche un pareggio. Grazie per l'atmosfera, grazie per l'atmosfera. Valotelli è sempre un giocatore che fa la differenza, ci è mancato lui, ci sono mancati tanti calciatori che non c'erano, ma hanno giocato altri e anche loro hanno avuto la loro occasione. Quindi calcio è così, bisogna anche sapere rinunciare di assenti. Grazie per l'atmosfera. Grazie. 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 Grazie.